Un medico in famiglia. Ricordate Annuccia? La più piccola della famiglia Martina è una donna bellissima. Ecco cosa fa oggi Un medico in famiglia è tra le fiction di maggiore successo. Ancora oggi è tra i prodotti maggiormente visti in replica e non è esclusa la realizzazione di una nuova stagione In onda per ben dieci anni. Fa parte del bagaglio di ricordi di moltissime persone. Tanti i telespettatori che non perdevano l'appuntamento settimanale con le vicende inaspettate della famiglia Martini Protagonista un noto medico. Rimasto vedovo con figli di diverse età e coadiuvato nella gestione familiare dal padre. L'amato nonno libero interpretato da Lino Banfi In molti non possono non ricordare Annuccia. La più piccola dei Martini. Cresciuta sul set Interpretata da Eleonora Cadeddu. Annuncia era considerata la mascotte della serie. Amata dal pubblico per il suo sorriso contagioso e sul set dai colleghi Presente in tutte le varie stagioni. Eleonora è stata prima bambina. Poi adolescente e infine adulta. In un medico in famiglia. E' adatto alla fiction molto anche del suo privato Ma cosa fa oggi? E com'è cambiata? Un medico in famiglia. Eleonora Cadeddu cosa fa oggi? Dalla tenera bambina che era. Eleonora è diventata una donna ed è davvero irriconoscibile Eleonora ha debuttato sul set a soli due anni. La parte in un medico in famiglia le ha dato fama e popolarità e le ha aperto le porte della recitazione Da qualche anno è lontana dalla tv. Ma è molto seguita sui social Ha un vasto pubblico con cui interagisce in modo quotidiano. Classe 1995 è impegnata su diversi fronti. È appassionata di teatro ed è molto legata alla sua famiglia. In particolare ai nipotini Prossima a compiere 30 anni. Eleonora Cadeddu insegna recitazione e continua a occuparsi anche della sua formazione La sua immagine è cambiata totalmente. È una donna bellissima, curata e ama i look sbarazzini. Ha un taglio corto e glam e segue diverse tendenze Non ama i make up impegnativi e sofisticati. Ma ci tiene a curare la sua immagine Come quando era solo annuncia anche oggi Eleonora è una persona semplice e spontanea. Non ha perso la sua naturalezza e di questo il pubblico ne è consapevole Potrebbe tornare sul set di un medico in famiglia qualora si realizzasse la stagione conclusiva Per il momento non ci sono progetti in atto. Ma in diverse occasioni la produzione Rai ha parlato della possibilità di dare alla nota fiction quell'atto finale che non ha avuto. Di certo annuncia non direbbe di no